Abbiamo appena aperto il bando per il corso General Management per le piccole e medie imprese. Siamo giunti alla seconda edizione di questo corso, frutto di una collaborazione, frutto di un invito in tal senso da parte dell'Unione Industriale Pisana. L'Istituto di Management della Scuola Sant'Anna ovviamente ha molte collaborazioni con le imprese, organizza corsi di formazione. Questo corso è mirato ai manager e in alcuni casi anche ai dirigenti, ai proprietari delle piccole e medie imprese che come sappiamo sono una parte importantissima del nostro sistema economico. È un corso dove già nella prima edizione abbiamo mixato teoria e pratica, dove dunque uniamo competenze e tecnicalità di management a una fase di condivisione delle best practice con i partecipanti stessi, che dunque vengono coinvolti in questo percorso insieme ai docenti che provengono non solo dall'Istituto di Management ma da varie istituzioni. I contenuti del corso che sono stati definiti insieme all'Agenzia Formativa di Confindustria Toscana vanno in qualche modo ad abbracciare la necessità di gestire il cambiamento da parte della piccola e medie impresa. Quindi parleremo della gestione delle aziende familiari, della successione, parliamo dell'innovazione, del marketing, dell'internazionalizzazione e della gestione dei risorsi umani all'interno di queste aziende. Il corso partirà a marzo e andrà avanti nella sua fase di aula in modalità FIGITAL, quindi un po' online e un po' in presenza, fino al mese di giugno. Poi ci sarà una fase di attività in azienda in cui gli imprenditori e i manager saranno accompagnati da nostri docenti per la realizzazione di un project work che verrà discusso in presenza ad ottobre. Le caratteristiche chiave di questo corso sono la grande partecipazione da parte della classe, dell'aula perché i manager e gli imprenditori che intervengono o come uditori o come partecipanti a queste lezioni hanno e portano in aula una grandissima esperienza che poi complementa la parte teorica. Il corso di alta formazione per manager delle piccole e medie imprese è alla seconda edizione, grazie a questa proficua collaborazione tra la Scuola Superiore Sant'Anna e Confindustria Pisa. Voglio ringraziare il professor De Minini e il professor Piccaluga perché il corso è veramente tarato sui bisogni delle nostre aziende, dei nostri manager. Bisogni di una formazione continua volta alla crescita delle imprese e quindi del nostro territorio. Io do questa testimonianza sia come presidente della piccola e media impresa che ha voluto fortemente insieme alla presidente Pacini la realizzazione di questo corso, sia come alunna perché ho frequentato la prima edizione. Devo dire che è stato molto importante e soprattutto ha accolto tutte quelle che erano le mie aspettative, anzi superandole. Ogni lezione, ogni giornata in cui ci siamo confrontati a livello imprenditoriale e manageriale ha portato in me un nuovo progetto, una nuova idea, una lampadina che si accendeva proprio per portare la mia azienda e la mia professionalità e fare un upgrade per permettere all'azienda di poter crescere in un mondo globalizzato.